Grave episodio di cronaca avvenuto a Campoformido in via Santa Caterina dove un uomo incapace di accettare la fine della relazione amorosa con la sua compagna ha pensato bene di scaricare tutto il suo odio e rancore prendendo a sprangate l'auto della ex distruggendo i finestrini. Qualcuno ha notato l'azione criminale allertando i carabinieri. In breve tempo una pattuglia ha raggiunto il luogo fermando l'uomo. Si tratta di un 35enne di Udine condotto poi in caserma per gli accertamenti di rito. Per lui è scattata la denuncia a piede libero per danneggiamenti e atti persecutori mentre l'oggetto metallico utilizzato è stato posto sotto sequestro.